Allora, eccoci qua Alberto Candiani, ma se io le dico, dammi i tuoi vecchi jeans che devo piantare la menta, che cosa mi dici? Che sono pazza? Che ci hanno preso per pazzi, ma che oggi non lo siamo più e tanta gente si dovrà ricredere, vuol dire che probabilmente sei stata al Coreva Shop di Porta Ticinese a Milano e che probabilmente hai un capo Coreva, ovvero un capo realizzato con un tessuto cambiani che si chiama Coreva, che è un tessuto elasticizzato ma biodegradabile e compostabile, per cui alla fine della sua vita, alla fine della sua città vita, può essere innanzitutto riciclato, ma tutti gli scarpi possono essere utilizzati come biofertilizzanti in agricoltura, quindi tornare dalla piena circolarità al terreno, dove poi adesso ho menzionato la menta perché è quella che abbiamo mostrato in negozio, ma più logicamente potremmo destinarli al cotone per crescere nuovamente il cotone e appunto dimostrare quel processo sia rigenerativo, dall'impatto positivo al direttore sull'ambiente e soprattutto un sistema circolare con più grande. Allora, l'obiezione che io sento fare è, ma questi jeans, perché io li voglio stretch, dice il ragazzo giovane, sono veramente performanti o addirittura lo sono di più? E che cosa usate? Un polimero vegetale? Allora, partendo dall'ingrediente e dalla tecnologia, è un elastico che arriva dalla gomma naturale. Da un punto di vista tecnico, senza cercare di essere noioso, questo elastico, questo polimero, questa gomma subisce una vulcanizzazione smart che non lascia residui di metalli pesanti che altrimenti interferirebbero con la capacità di biodegradarsi. Detto questo, le performance fisiche di questo elastico sono eccezionali, da un punto di vista di elasticità sono anche eccessive, tant'è che la difficoltà è stata quella nello stabilizzare il tessuto. Oggi abbiamo compiuto tutto il rodaggio, il fine tuning, chiamiamolo come vogliamo, per dire che il tessuto è estremamente solido e da un punto di vista di resistenza, questo elastico supera tutti gli altri elastici che abbiamo utilizzato fino a ora. Le performance sono simili agli elastomeri sintetici, da un certo punto di vista alcune sono addirittura migliorative ma non sono qui a venderlo come è incredibilmente meglio di tutto il resto, ciò che è veramente meglio di tutto il resto è il fatto che questo polimero sia biodegradabile e che quindi insieme al cotone poi sia in grado di compostarsi a differenza di tutto ciò che è sintetico. Come quando Alberto Candiani arriva a Genova e a Genova Jeans? A Genova Alberto Candiani ci arriva da bambino, piccolo piccolo, passando tantissime estati a pegli con la nonna per cui di qua ci sono già passato e ho ricordi meravigliosi e soprattutto di focacce strepitose. Dopodiché ci torno volentieri a Genova e poi ripeto, Genova è una di quelle città che è un'ora e mezza da Milano se si va via. E vicino a Genova ci sono posti meravigliosi dove molto spesso si va in vacanza ma la città di Genova la si conosce sempre un po' poco secondo me se non sia di Genova. E io ho sempre invece trovato un discreto fascino in questa città e qualche volta ci sono anche tornato in età più adulta poi quando c'è stata l'opportunità effettivamente di via, riscopriamo queste benedette, legittime origini del jeans italiano hanno detto sì Genova facciamolo arrivo e infatti siamo arrivati solo, siamo partiti un paio di anni fa le prime chiacchiere erano pre-pandemiche e poi chiaramente ci siamo trovati nella pandemia e tutto ha avuto un rallentamento chiaramente quando si cerca di creare un evento culturale che porta i genti allo stesso luogo. L'anno scorso è stato praticamente impossibile farlo e nonostante questo la mostra che era stata realizzata a Genova... Oddio... La mostra realizzata... Arte Jeans. Arte Jeans scusami. Non volevo interromperti. No, no, è la regione Arte Jeans curata da Ursula Casamonti e Tornavoli Art è stata già eccezionale, è stato un evento molto bello l'anno scorso non vedevo mai vedere quella di questa... Ultima curiosità, l'Hub di Porta Ticinese abbiamo detto è lì, è una realtà molto particolare altri progetti? Noi a Milano abbiamo due spazi, uno in piazza Mentana che ha 5 minuti a piedi da Porta Ticinese e lo spazio di Mentana è effettivamente il nostro Lab Candiani a Milano dove realizziamo dei capi su misura e facendolo riusciamo anche a raccontare questo famoso jeans italiano di dove lo produciamo quindi a 37 km da Milano, nel parco del Ticino il piccolo paese di Romecchetto con Induno e riusciamo chiaramente a dare un servizio a un prodotto diverso a chi lo vuole acquistare perché è un su misura per davvero con ampissime possibilità di customizzazione abbiamo poi anche una selezione di collaborazioni fatte con i nostri migliori clienti su tematiche di innovazione sostenibile e poi, con 5 minuti a piedi, abbiamo lo spazio Ticinese che invece è interamente dedicato a Coreva al prodotto Coreva e soprattutto alla visualizzazione di quei modelli circolari di cui parlavo perché Coreva non è solo una tecnologia brevettata è anche un tessuto che diventa un capo che diventa eventualmente un biofertilizzo grazie